Il vice sindaco di Montesilvano, Paolo Cilli, candidato con Forza Italia alle scorse elezioni regionali, si dice pronto a ritirare il ricorso al TAR qualora il Tribunale dovesse riconoscere l'errore nel riconteggio dei voti. Cilli, come è noto, in un primo momento era risultato il secondo degli eletti nella lista pescarese di Forza Italia alle spalle di Lorenzo Sospiri, ma dopo il riconteggio fatto dal Tribunale e l'ufficializzazione del risultato elettorale, Antonio Zaffiri era salito al secondo posto facendo scivolare di una posizione lo stesso Cilli. Riscontrato l'errore, ci sono possibilità di poter tornare a sperare per un posto in Consiglio regionale? La speranza c'è perché l'errore che abbiamo riscontrato è evidente, adesso speriamo nelle nomine della Giunta che il presidente Marsiglio possa nominare Lorenzo Sospiri come assessore e consentirebbe a Montesilvano e nell'area Vestina di avere un altro rappresentante in Consiglio regionale. Paolo Cilli non si è reso richiedendo a divisionare documenti che non collimavano con i dati ufficiosi raccolti dai rappresentanti di lista. Sì, esattamente questo, ci siamo accorti che c'era un'incongruenza nel risultato del comune di Moscufo, tra l'altro in un seggio del quale avevamo i voti del rappresentante di lista, e quindi è stato abbastanza facile riscontrare questo errore. Poi accertate le carte, visionate, è assolutamente palese, appunto, come dicevo prima, che ci sia stato questo errore. Cilli, lei ha presentato un ricorso ufficiale, qualora però il Tribunale dovesse accertare l'errore, lei è pronta a ritirarlo? Assolutamente sì, ho presentato sia una richiesta di annullamento in autotutela che un ricorso al TAR. La speranza, appunto, è che non si debba ricorrere al TAR per vedere riconosciuto un diritto che è palese.